Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Chiara Ferragni è tornata dal suo safari in Sudafrica, dove si è goduta una breve vacanza tra un giro in Jeep e un'avventura tra leoni e tigri. L'influencer, che ha aggiornato con numerose foto e video i suoi follower, ha trovato ad aspettarla una brutta sorpresa al rientro a Milano. Arrivata all'aeroporto di Milano, la Ferragni ha scoperto che la sua valiga è stata smarrita. Non si tratta della prima volta, anche all'andata le valigie di tutto il gruppo erano andate perse, con quella dell'influencer che aveva richiesto qualche giorno in più per essere ritrovata. Chiara Ferragni non ha perso tempo, aggiornando i suoi followers con una storia e incolpando la compagnia con cui ha viaggiato, grazie Lufthansa per aver perso la mia valigia entrambe le volte. Se il video è stato di tuo gradimento, lascia un bel like e iscriviti al canale, per noi è molto importante. Grazie e arrivederci al prossimo video.